Consorzio Agrario è una società cooperativa nata nel 1901 che ha ad oggi competenza su un territorio che va dalla Romagna a quasi tutte le marche. Ci occupiamo di fornire mezzi tecnici e servizi alle aziende agricole. Quindi offre prodotti di concimi, fitosanitari, sementi, materiale vivaistico ai migliori prezzi sul mercato. Negli ultimi anni abbiamo ampliato la nostra gamma commerciale introducendo anche i settori irrigazione, plastiche, enologie e garden. Nel 2015 abbiamo raggiunto un fatturato di oltre 150 milioni di euro con oltre 21.000 clienti ed una quota di mercato media sull'intero territorio di oltre il 60%. Tutto questo grazie alle nostre 54 agenzie sul territorio, 82 dipendenti, di cui 27 sono tecnici, agronomi o periti agrari. Infatti una delle nostre caratteristiche principali è quella di fornire un servizio tecnico gratuito e di alta qualità. Inoltre abbiamo a cuore la valorizzazione dei prodotti agricoli per proteggere il reddito degli agricoltori. Per questo motivo siamo stati promotori di un pastificio che per primo in Italia produce pasta derivante da grano 100% italiano. e sto parlando del pastificio Ghigi. Inoltre gestiamo un frantoio per valorizzare la filiera delle olive e dell'olio. La scelta di un nuovo software gestionale centralizzato su una piattaforma Windows e distribuito verso una periferia molto diffusa capillarmente ci ha indicato chiaramente l'ambiente CITIX come quello più naturale per realizzare questo progetto. Cioè è una massima centralizzazione con CITIX Farm, server pubblici sicuri, NetScaler e minimizzando invece le risorse necessarie nella periferia permettendo il collegamento verso il nostro sistema centrale tramite una semplice connessione ad Internet e con qualunque device. Server Lab ci ha messo a disposizione fin da subito le migliori tecnologie per realizzare i nostri obiettivi adattandole alle nostre esigenze. Assieme a loro abbiamo fatto un lavoro di analisi e di realizzazione nei modi e nei tempi stabiliti per poter gestire con efficacia e sicurezza le nostre esigenze e i nostri utenti che sono circa 200. Un particolare merito deve essere dato senz'altro ai tecnici e a tutto il personale per la professionalità e le capacità che mostrano ogni volta che abbiamo bisogno di loro. Da un punto di vista hardware abbiamo realizzato un cluster di server Dell in ridondanza di host, SAN e SWITCH ad alta velocità. Tutte le virtual machine sono sviluppate in tecnologia VMware e suddivise per tipologia di utilizzo macchine di dominio, posta elettronica, file server, macchine Citrix, provisioning, maintenance and production e macchine gestionali RP, CRM, business intelligence. Il collegamento principale in fibra ottica a canto ci garantisce una connettività simmetrica a 50 gigabit perfetta per soddisfare tutte le esigenze quotidiane. Ma abbiamo anche ridondanza di collegamento tramite un backup HDSL in rame e un ponte radio EOLO attestati su Firewall Stonegate. Sicuramente l'amministrazione della nostra rete di agenzie e dei nostri tecnici sempre in movimento per il territorio è diventata facile e sicura. Inoltre facciamo modifiche ai programmi che vengono distribuite immediatamente a tutti e sicuramente la ridondanza delle infrastrutture ci garantisce agli utenti la continuità operativa e ci permette inoltre di fare manutenzione e aggiornamenti senza interruzioni.